Il CT di Parigi, poco meno della messa fuori ma recuperata dallo stesso Dravaux, avanzano tutti i difensori del Parma per mettere in fuori gioco gli avversari. Enesia dei primissimi minuti di gara, c'è il colpo di testa ancora di Nouma, quest'altro di Sensini. Poi Nouma, il rinvio di Cannavaro dalla conclusione in gol di Melli. Il colpo di testa di Cannavaro. La palla. Il colpo di testa di Cannavaro. Con il solito inserimento di Fournier, la chiusura di Cannavaro e l'angolo. Si sistema il pallone sul sinistro, poi opera il cross sul quale Cannavaro è puntuale nel colpo di testa. Cannavaro sta scaldando però sugli schermi Inzaghi. Inzaghi, non trova il tocco per smarcare Brambilla. Ha dato, infatti Sensini ci pensa su sempre due volte ad avanzare. Buono il colpo di testa di Cannavaro. Ha dato fermo molti mesi per la frattura del dito di un piede. Sale intanto ancora lì. Cannavaro. Deliva adesso a disturbarlo. Calcio di punizione per il Parma. Dal momento per la formazione di Scala che ormai giocava le sue speranze tutto in questa Coppa delle Coppe.